400 metri quadri in perfetto stile america immersi in ghiacciatissima birra succulenti piatti e tanta ottima musica questo è il rockers pub hamburger giganti e 5 birre alla spina il tutto selezionato per soddisfare le esigenze dei giovani e dei meno giovani rockers pub se non ti sporchi le mani godi solo a metà vieni a trovarci in via al cile de gasperi 9 a cirea